Benvenuti amici da L'Orto ai Fornelli, oggi vi faccio vedere come ho cresciuto questo basilico sul balcone. Ho riempito un vaso, metà trice universale e metà compost. Facciamo un solchetto dove infileremo i nostri semi. Al centro forse ci metto un pomodoro dopo quindi lascio il posto libero per ora. Abbiamo i nostri semi, ho preso questa varietà. E seminiamo mettendo pochi semi. Possiamo riseminarlo anche più volte diciamo. Ricopriamo. E compattiamo bene la terra in modo che l'acqua non sposti i semi. Una volta che innaffieremo. Manteniamo umido per qualche giorno. E vi aggiorno su cosa succederà. Ecco dopo due settimane come si presenta il basilico. Al centro ho piantato dei pomodori. Guardate quanto è cresciuto il basilico. Adesso lo sposterò, lo troppianterò qui a fianco, lontano dai pomodori. Allora adesso prendiamo delicatamente le piantine di basilico e le mettiamo nel nuovo contenitore. Questa è una. Adesso sono queste qui. E poi lo metteremo anche da questa parte. Sto entrando semplicemente con il cucchiaio così e le trappiantiamo. Ora non ci resta che innaffiare. Ora hanno subito un leggero shock durante il trappianto ma... In breve si rialzeranno. Ecco com'è dopo un mese il nostro basilico. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!